Idea di Natale per un secondo originale. Orata al forno con patate. Andiamo a vedere come si fa. Iniziamo a tagliare le patate a filanger. E le condiamo con rosmarino, aglio, olio, sale e pepe. E mescoliamo con entusiasmo. Stendiamo le comode su una teglia e inforniamole a 220 gradi per 30 minuti. Sfilettiamo la nostra orata. Togliamo le rische con una pinza. E squamiamola sotto acqua corrente. Tagliamo a metà i nostri filetti. E pieghiamoli a metà come un foulard, aiutandoci con uno stussicadenti. Ora condiamoli e mettiamoli in una teglia. E inforniamo per 5 minuti. Impiattiamo a fantasia e buon appetito! Orata al forno con patate. Solo per numero 1. Poop poop!